75 anni della Corale Verde, domenica un appuntamento importante, che ciude un po' un anno, in realtà i festeggiamenti sono iniziati anche prima. Sì, è stato un anno nel quale abbiamo commemorato questa costituzione della Corale, avvenuta nel 1948, per un'intuizione, una visione del maestro Enio Veduschi, che ricordiamo ancora oggi con grande affetto, e che appunto, a conclusione di questo anno di eventi, domenica prossima al Comunale faremo questo appuntamento importante, al quale siamo tutti invitati a partecipare. Perché la Corale Verdi è un pezzo di Teramo, è una delle istituzioni più importanti? Perché è stata una istituzione che ha portato ben oltre i confini cittadini, la nostra tradizione floristica, abbiamo cantato in Italia e all'estero, le tradizioni della cultura appruzzese.